scusate era un video infatti stavo vedendo che era in movimento adesso è una foto ok benissimo allora ecco siamo pronti è un momento bello, è un momento significativo come tutti avete visto nella pubblicità è una serata dove saremo protagonisti io e Matteo purtroppo ci scusiamo per un problema di stampa dove hanno scritto 20 persone sul palco erano due, c'è stato un problema sullo zero, c'è il problema dello zero i musicisti sono due è un concerto a due prendo la chitarra già ci poteva essere un'ovazione senti dire che io e Matteo facciamo un concerto a due l'ovazione proprio del popolo della musica da ballo sei un po' più avanti di me per l'amore ci mancherebbe è un po' anche la pancia ah era quella che era avanti prendo la chitarra prego ci mancherebbe signora, signora se chiede Cecce Mauro diciamo che siamo in due signora siamo in due uno e due se non le bastiamo non le bastiamo no no però già comincia ho capito partiamo male signora partiamo male non comincia bene non comincia bene Antonio Patanè supporto è supporto morale grazie Antonio e musicale allora guarda cantiamoci un po' di quelle canzoni perché sarà un concerto acustico di due ore e mezza quindi direi di cominciare con una canzone che parla di amicizia un'amicizia che lega le persone sotto l'aspetto umano ma anche artistico assolutamente e stasera ci lega questa amicizia anche a Piazza della Libertà perché ci stanno seguendo in diretta li salutiamo salutiamo Piazza della Libertà l'amicizia non è morta l'amicizia esiste ancora nel bar del porto tra i marinai nelle taberne tra gli operai passa il tempo e l'amicizia lentamente goccia goccia segna il tuo cuore scava la roccia è la sorella del grande amore che sarà che sarà senza di te che sarà che sarà se te ne vai a chi mai capirà se non ci sei tutto il buio che c'è che c'è dentro di me a chi racconterò vabbè due in più la paura che ho se la fede non c'è dentro di me un altro ancora? ciao ciao niente tre tre in più vabbè tre moreno vabbè quattro direi